Riconosciuta per la qualità e per la capacità di fare e di portare innovazione, la ferramenta Venerota è oggi presente in pressoché tutta la Lombardia. 45 collaboratori con elevate competenze operano quotidianamente nella moderna e funzionale sede realizzata nel 2003 nel cuore della città di Lecco, noto strategico per raggiungere tutte le province lombarde. Ed è proprio dalla sede di Lecco che ogni giorno partono 10 consulenti commerciali per affiancare i clienti nella scelta dei prodotti e nella ricerca delle migliori soluzioni. Qual è il nostro fiore all'occhiello? Una reputazione solita fatta di serietà e affidabilità, tenacemente perseguita negli anni attraverso una politica lungimirante di reale vicinanza ai clienti, accresciuta con servizi personalizzati. Tutto questo fa, oggi di Venerota, un punto di riferimento autorevole nel mondo della ferramenta professionale di qualità. E siamo stati premiati, premiati dai fornitori più autorevoli a livello europeo, marchi noti ed affermati di altissima qualità. Premiati dalla clientela che hanno fatto crescere Venerota anno dopo anno e che sono il fiore all'occhiello nel mondo del Made in Italy. Premiati anche dai nostri collaboratori, a cui va il grande merito di aver sposato filosofia, valori, modi di operare e motivazioni necessari a fare di Venerota ciò che oggi è. Un'azienda solida, di qualità, con capacità di innovazione continua, ma con radici profonde in quello che era il sogno del suo fondatore, mio padre Amedeo Rota. Come nasce Venerota? Era in lontano 1962 quando da un sogno di mio marito nacque un laboratorio familiare per la produzione di tende alla veneziana. La passione, l'impegno, la lungimiranza, un intuito non comune, la tenacia, la costante attenzione alle esigenze della clientela gli consentirono di trasformare il piccolo laboratorio in una realtà imprenditoriale di rilievo nazionale nel settore del commercio di ferramenta. Superato il delicato e improvviso momento del passaggio generazionale, la ferramenta Venerota sviluppa un nuovo modo di fare impresa e si avvia così sulla strada che la condurrà ad essere un partner serio, umano, affidabile, di qualità. Dal professionista al privato, nell'ampio punto vendita, c'è la possibilità di orientarsi tra numerosissimi articoli delle migliori marche. A far da guida la competenza Venerota, sempre a disposizione del cliente e della sua scelta migliore. La nostra parola d'ordine è quello che ti serve quando ti serve e questo grazie ad una perfetta combinazione di ampi spazi disponibili, quantità di articoli a magazzino organizzati con criteri di ordine e razionalità e l'ausilio di una esclusiva tecnologia all'avanguardia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oltre ad informare sulle novità del settore, sensibilizziamo i nostri clienti ad affrontare le nuove realtà di mercato, curando qualitativamente la produzione e trasmettendo l'importanza dell'utilizzo degli strumenti di marketing e di vendita per affermarsi. Nel 2006 Venerota decise di dar vita all'Accademia Venerota per divulgare conoscenza tecnica e normativa. L'accoglienza straordinaria ricevuta fin dal suo esordio ha confermato la bontà e la lungimiranza dell'iniziativa in un settore come quello della ferramenta professionale in cui i cambiamenti sono rapidi quanto decisivi. In cinque anni di attività, oltre 2.500 falegnavi e serramentisti hanno partecipato ai numerosi e attesi appuntamenti. L'Accademia Venerota cura inoltre l'edizione delle dispense del falegname e del serramentista, con lana contenuto tecnico-commerciale riservata agli iscritti all'Accademia e ai clienti fidelizzati. Sito, forum, newsletter con notizie, informazioni, promozioni, specifiche tecniche, video informativi e molto altro ancora. Sempre aggiornati, rimanendo al vostro tavolo di lavoro, proiettati verso il futuro con facilità. Tanta tecnologia intelligente, creata apposta per la clientela dal team di Cervelli Venerota, per essere più vicini con discrezione, serietà e utilità. Quando sei sul mercato da oltre 50 anni e si cresce costantemente anno dopo anno, non può essere un caso. Unire le forze, mettere insieme le persone e farle collaborare, volere il bene comune. Questo è fare squadra. Abbiamo messo insieme gli uomini migliori e fatto squadra con i nostri fornitori più qualificati, per essere sempre più vicini ai clienti, per difendere il loro lavoro e valorizzarne l'attività. Al prossimo episodio